La Teramo del 2026, pensata dall'amministrazione comunale, sta prendendo forma grazie anche alla sinergia tra diverse istituzioni. In questo quadro di progettazione urbanistica del futuro, non troppo lontano, la Fondazione Tercas si schiera ancora una volta a fianco del Comune di Teramo per il bene e lo sviluppo della città capoluogo. L'azione della Fondazione non è nuova a questo genere di impegno. Solo recentemente l'ente ha provveduto a mettere a disposizione del Comune uno studio di fattibilità per il recupero del Teatro Comunale di Teramo, che ha poi ottenuto l'assegnazione del finanziamento di circa 12 milioni di euro nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR. Anche per quanto riguarda il recupero del Teatro Romano di Teramo, il bene archeologico più importante è d'Abruzzo. La Fondazione Tercas non ha fatto mancare il proprio sostegno, sia finanziario che progettuale. A questi due interventi oggi se ne aggiunge un altro, altrettanto strategico per Teramo. Parliamo della riqualificazione di Piazza Sant'Anna, un gioiello incastonato nel centro storico della città, dove insistono due antichissime chiese, Sant'Anna, Punto e Santa Caterina, e dove è possibile ammirare i resti di una domus romana. E così Fondazione e Comune di Teramo hanno avviato la realizzazione di uno studio di fattibilità propedeutico alla nuova copertura a protezione dello scavo archeologico sito in Piazza Sant'Anna, con la speranza che ciò possa permettere ancora una volta l'accesso ai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidente Tiziana Di Sante conferma che la Fondazione Tercas è ancora oggi pronta a mettere a disposizione dei comuni competenze e risorse per il più efficace utilizzo dei finanziamenti del PNRR sul territorio terramano, un territorio dove sono presenti tanti luoghi d'arte e cultura che vanno valorizzati sinergicamente per le loro enormi potenzialità.